Musica Voglio vivere a colori Colorare il mio destino E rubare il sogno a voi Lo sai, quel sogno cos'è? E allora adesso momento di spettacolo Io lo so che qualche settimana fa Tutti voi siete rimasti allibiti Da una performance straordinaria La performance di Country Loro sono tornati a bordo Eccoli qui, io chiamo accanto a me My friend Joe Eccolo qui Ben tornato Ben tornato Joe E allora, ethno Country Style Noi da questa sera di tanto in tanto Vi daremo delle piccole lezioni di Country Allora tu prepari i tuoi ragazzi Io vi invito Allora signora, lei che è a casa In questo momento anche con le pantofole Va bene, si alzi dal divano Si prepari, si sistemi Si metta comoda Perché adesso con un po' di consigli di Joe E tutti i ragazzi a letta una Country Style Anche voi, a casa vostra Imparerete a danzare il Country Voglio anche il Mago Perfetto Ci sono i primi ballerini Arrivano i primi ballerini Buonasera, buonasera, buonasera Allora, prima cosa Once Dance American Boys Allora, prima cosa è importantissima L'atteggiamento L'atteggiamento è importantissimo Bisogna avere sempre le mani alla scinta Quindi mettiamo alla scinta Ci flettiamo leggermente sulle ginocchia Dopodiché la mano destra serve per countryarsi Mentre che si balla Quindi Perché questo si chiama Country Perché uno si countrya lo diceva Allora signora Lei che mi sta guardando da casa Guardi attentamente i passi Sono facilissimi Quindi i nostri ballerini sono pronti? Prontissimi Sono pronti per te Allora, cominciamo con la gamba destra E andiamo a fare due movimenti Apro e chiudo Apro e chiudo Apro e chiudo Con la stessa gamba Tacco su Tacco giù Tacco su Tacco a posto A posto L'altra Apro e chiudo Apro e chiudo Tacco su Tacco a posto A posto Ci siamo? Poi facciamo due passi avanti Con la gamba destra signora Avanti e avanti Due passi con la gamba sinistra Dietro 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 Poi ci muoviamo in quattro passi Laterali sinistra e destra Per completare il ballo Sinistra Uno Due Tre Quattro Destra Cinque Sei Sette Stop Ci giriamo e rifacciamo di nuovo lo stesso ballo Semplicissimo Ma che bravi questa è la prima lezione Allora noi siamo pronti Carmela l'unica cosa sembrava che ti stavi tenendo il cateter Tutto a posto Benevi e ballavi Siamo pronti con l'esibizione adesso di Etna Country Style Signora mi raccomando Atteggiamento Atteggiamento La mano La mano La mano La mano La mano La mano Vai Su da le mani Su da le mani La mano La mano La mano La mano Pronti? 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avanti, 1, 2, 1, 2, lato, lato e giro, là e 1, 2, sempre le stesse cose, guardate, guardate, 1, 2, tacco, su, tacco, giro, avanti, avanti, dietro, 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 La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, mangi, mangi, uno, due, mangi, 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 Tiro, eh, oh, di nuovo. Mano, 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 mano. Ci cantiamo, ci cantiamo, ci cantiamo, ci cantiamo. Cantiamoci, cantiamoci. Giro, Giro. Ma quanto sono bravi, eh. E allora, la raccomandazione è questa. Voi seguiteci perché adesso di tanto in tanto vi daremo queste lezioni di country. Grazie agli amici di Etna Country Style.